Ciao a tutti, mi chiamo Angelo Monaco. Sono una gallatina, ripresentando da New York, Cream Art. Buonasera a tutti, sono Betto Lombroso. Salve, io sono Michela Santoro. Buongiorno, mi chiamo Eduardo Wittsbjerg. Buongiorno, sono la mamma di Domina. Io sono Bruno di Marino. Buongiorno, mi chiamo Maya Sarpé. Mi chiamo Ariel Faia. Buongiorno, mi chiamo Dona. Buongiorno, mi chiamo Karina Insignoli. Mi chiamo Eugenia Andriani. Buongiorno, mi chiamo Tiel Faia. Buongiorno, mi chiamo Annie. Buongiorno, mi chiamo Serraio Vazioniere. Buongiorno, mi chiamo Mariange Molanguet. Buongiorno, mi chiamo La libertà, la libertà, la libertà, la libertà! Il gusto di Toni Esslèr è che è un artista americano e ho fatto anche sul gusto e questi dei «Glow in the dark». Non potete uscire dalla scatola ma non si può mangiare, ma solo perché così capite, potete capire tutti le maniere che aveva il suo simbolo della famiglia. E' impizzicato appunto il suo primo lungometraggio per il proprio atto d'amore e per la propria cultura contadina del Salento ormai quasi scomparsa e spazzata via dal progresso e anche da fenomeni di modernizzazione di Pasoliniana. Noi, non è vero. Noi, non è vero. Noi, non è vero. We get the same piece of paper and do the same stuff and all get different shapes. It's true that everyone, you can do this so hard. It's something to say, something to be said. Why did I win? La tarantata è una tarantata, una tarantata, una tarantata, una tarantata, una tarantata di amore. E si gioca Tizzica, Tizzica Tarantata. Si reagisce alla musica. E si è venuta con il giudice per un anno. Con la helpa di San Paul, che è il suo patrono di tarantata. Si suona molto strano, ma si succede così. Inoltre, si conosce. Questo succede in May, in Juni. E si chiama Terapia Domiciliare. Il 29 di Juni, il giorno di San Paul, tutti tarantatati dalla regione, di Puglia, 集ano qui, in fronte di San Paolo. E sulla destra figurano degli strumenti musicali, che vengono suonati non tanto per delettazione di cenuzi, cioè per diletto della gente, ma perché servono a liberare dal morso della taranta. Quindi questa è una delle prime attestazioni iconografiche all'inizio del secento del tarantismo in Puglia. In Ucraina, abbiamo ancora questo homopopismo, abbiamo ancora un problema con il risultato delle comunità LGBT. Ma tutti questi problemi stanno dall'incensore, ma anche dall'idea, come dall'idea, che il governo è controllo, che l'ideologia ha più potere, che la società, che la società, che la società, che la società. Questa inscrizione, per esempio, era fermata direttamente dopo l'opera. e anche le culturale centrale visuale, che esistono nella mia università, la Kielmo Hill Academy, era fermata. Grazie a tutti!